Ho sentito che c'è stata un po' di polemica sull'intervento, sulla presa di posizione che ha fatto Umberto Eco all'Università di Torino commentando sui social network. Alcune frasi mi pare che sono state estrapolate. Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un premio Nobel. È l'invasione degli imbecilli. Poi la tv aveva promosso lo scemo del villaggio rispetto al quale lo spettatore si sentiva superiore. Il dramma di internet è che ha promosso lo scemo del villaggio a portatore di verità. A queste affermazioni ci sono state una serie di reazioni, di contestazioni a questa presa di posizione di Umberto Eco. Alcune mi pare di avere capito anche offensive nei confronti del personaggio. E poi ci sono state anche delle prese di posizione, delle argomentazioni. E su queste argomentazioni io vorrei anche provare invece a fare delle contro-argomentazioni. Vorrei discutere sulla qualità delle argomentazioni che sono state fatte contro. Alcuni punti di argomentazione che contesta la presa di posizione di Eco sono questi. Andiamo dal primo. I social network sono in effetti pieni di legioni di imbecilli che parlano. Lo sono anche le strade delle città. Non mi segnerai di criticare, dice chi scrive, le strade perché permettono agli imbecilli di camminarci o di circolarvi sopra. Pieni di imbecilli sono più o meno tutti i luoghi di aggregazione, che però non mi sentirei di chiudere. Invece di prendercela con i social, prendiamocela casomai con la società che contribuisce al dilagare dell'imbecillità. Insomma, punto primo, è un po' difficile prendersela con la società in generale. Così, insomma, bisogna indicare eventualmente una strategia con la quale iniziare a prendercela con la società. Ma vediamo, insomma, di capire perché questa argomentazione, secondo me, non tiene. Perché intanto non tiene conto dei cambiamenti che ci sono stati. Quindi, di cos'è la globalizzazione, intanto, diciamo, i beni più preziosi in una società globale sono l'informazione e sono il denaro che diventa qualcosa di immateriale. Il fatto che diventa qualcosa di immateriale vuol dire che viaggia in tempo reale e non conosce confini. Quindi va dappertutto, raggiunge ogni minimo recesso del globo e questo succede in tempo reale. Cosa che non è mai stata prima. E questi sono i beni più preziosi, tra i quali, ripeto, l'informazione. Allora, nei social non passa soltanto il pettegolezzo del bar, la chiacchiera. Passano notizie, passano cose che pretengono di essere anche informazione. Allora, l'informazione, in genere, è qualcosa che richiede, per essere tale, insomma, che non è mai stata lasciata completamente nelle mani di chiunque, nelle mani di qualsiasi imbecille. Allora, voglio dire che lavorare in un giornale richiede una preparazione, richiede una competenza per fare informazione. Se uno lavora o trasmette da una radio, è chiaro che in questa radio, per poter trasmettere, deve rispondere a una redazione, deve rispondere a qualcuno e soprattutto ci assumere una responsabilità di quello che dice. Allora, punti chiave. Ho responsabilità di quello che si dice, che si afferma. Se io guido un'automobile e faccio un incidente, sono responsabile dell'incidente, ma perché sia responsabile, c'è bisogno che il mio autoveicolo, la macchina che io guido, abbia una targa, che io abbia una carta di identità, che sia chiaramente identificabile, che quindi mi si veda in faccia e che quindi risponda anche legalmente, eventualmente, di un incidente, di un danno che posso provocare, circolando in automobile. Io agisco all'interno di internet e faccio informazione, sono sproveduto, cioè non so, non ho mai fatto informazione, non so cosa significa, non conosco i danni che posso provocare nel fare informazione all'interno di internet, e poi lo faccio in maniera anonima, quindi non ho una targa, e in qualche modo mi sento deresponsabilizzato, non mi si può riconoscere, in teoria, almeno, insomma, no? E quindi non ho la percezione dei danni che posso provocare facendo queste cose, diciamo, è una situazione particolare, una situazione nuova. Anche la chiacchiera da bar restava limitata nel bar, se l'idiota nel bar diceva delle cavolate, lo sapevano i suoi compagni di bar che lo vedevano in faccia e magari si accorgevano che era anche ubriaco, sapevano che aveva bevuto qualcosa di più. Ma quando l'imbecille parla in un luogo pubblico, come in un social network, è chiaro che quello che dice può arrivare ipoteticamente in quel momento, e quindi senza passare attraverso censure, in tutto il mondo, quindi in uno spazio assolutamente grande, enorme, può ovviamente, non è detto che arrivi, ma insomma la potenzialità c'è. E può succedere che chi dice quelle cose sia coperto da un avatar, da qualcosa che lo rende irriconoscibile e quindi che non sia abbastanza responsabile di quello che dice. Dopodiché nei social è molto difficile sapere quando c'è informazione o quando c'è pettegolezzo. E l'informazione potrebbe essere anche un'informazione deleteria. Se io parlo a quelli che hanno un cancro e che fanno una determinata terapia, che sono in terapia e gli faccio capire che le cure non servono a niente, che sono avvenenati, che tutti i farmaci sono veleni e così via, beh, insomma, se lo dico e sono competente, so quello che dico, sono responsabile di quello che dico, è un conto. Ma se lo dico in maniera anonima, senza prendermi la responsabilità di quello che dico, e qualcuno magari rinuncia una terapia e magari ci muore, la cosa non è indifferente. Qualcuno in questo caso ha fatto informazione, magari un'informazione imbecille, ma l'ha fatta senza averne la competenza, l'autorità, lo studio, il ruolo. Quindi è difficile pensare a uno spazio e quindi fare questo paragone, fare il paragone con l'osteria, insomma. No, è chiaro che in osteria ogni imbecille può dire quello che vuole, ma il luogo internet non è paragonabile all'osteria. Per quello che dicevo prima, i social network, evidentemente, sono degli strumenti che di per sé non sono né buoni né cattivi. Quindi, questo lo dicono tutti, insomma, dicono una cosa ovvia, ma l'uso di un mezzo, di uno strumento, dipende poi da chi lo usa, dall'uso che se ne fa. Se io uso un coltello in cucina e lo uso per pelare una patata, ovviamente ne faccio un uso utile, ma se lo uso per ammazzare il gatto, o peggio ancora, se lo uso per ammazzare qualcuno, sicuramente non ne faccio un uso utile, ma il coltello di per sé non è né cattivo né buono. Il coltello è uno strumento e come tutti gli strumenti, la loro funzione, la loro bontà, dipende dall'uso che se ne fa. In cucina magari non mi si chiede di avere un porto d'armi, ma se però uso una pistola, qualcuno mi richiede anche di avere un porto d'armi, vuol sapere chi è quello che la usa e la sua quindi potenziale pericolosità o utilità, ovviamente, perché anche la pistola è un mezzo netto. Lo strumento informazione è uno strumento molto importante, molto potenzialmente pericoloso, come potenzialmente utile. Non è indifferente chi lo usa, quindi sapere a chi è in mano è importante. Un treno mi può portare lontano, ma può anche deragliare, mi può portare alla morte. Sapere chi lo conduce, insomma, oppure sapere avere le garanzie che chi lo conduce ha le carte in regola per farlo è una cosa abbastanza importante. E' importante anche sapere qual è la competenza e come viene fatta l'informazione. Gli imbecilli non dovrebbero avere accesso all'informazione, ma nel mezzo, nel social, è molto difficile separare nettamente l'informazione dalla cosa ludica, perché spesso anche attraverso le cose ludiche passa un certo tipo di contenuto informativo o disinformativo, come si vuole. L'imbecille, ma anche il matto, una volta è giusto che si esprima, è giusto che dica quello che vuole. In osteria può dire quello che vuole. Ma anche magari il matto è anche libero di stamparsi un libro e quindi di dirlo cercando di rivolgersi a una platea più ampia. Fa già più fatica a parlare in un giornale o fa già più fatica a entrare in una radio o in una televisione, a meno che non voglia essere strumentalizzato perché ci si rida sopra. Mettiamo che il matto, quello che ha inventato le modalità per addrizzare la torre di Pisa facendo una serie di canali sotterranei insomma possa esprimere in un libro, possa pubblicarlo insomma anche a sue spese oppure a spese di chi magari si crede e possa farne un libro, un qualcosa che possa andare, possa circolare. È presumibile che quel libro difficilmente venderà molte copie, e che quel libro va a una grande diffusione. Insomma, anche se scrive delle cavolate, anche se vuole convincere, perché magari il paranoico è in grado, cerca o crede di convincere della bontà, della sua invenzione, della sua idea, ma anche se vorrà farlo attraverso un libro, attraverso uno strumento che ha assolutamente il diritto di fare, di dirlo, quello strumento ha una potenzialità limitata perché anche quel libro difficilmente raggiungerà platee grandi. I social da questo punto di vista hanno cambiato tutto perché in quel momento anche quel matto che lo dice attraverso i social può raggiungere intanto platee che prima non si sarebbe assolutamente sognato di raggiungere. E anche, lo fa in maniera anonima, trova ad ascoltare una popolazione molto più pronta spesso a credere alle sue illazioni, cioè meno dotata di spirito critico. Perché quando tutti dicono tutto, quindi quando c'è una ridondanza di informazione in un mezzo, dove si sentono continuamente le idee più disparate, la capacità di selezione e di critica all'interno di queste idee, di queste cose, si fa più ristretta, più limitata. E soprattutto i criteri non sono più poi quelli del discernere la bontà delle informazioni, ma sono altri, sono la rapidità, sono la temerarietà di certe cose, quanto queste cose sono provocanti. Sono spazi che lasciano poco tempo, al ragionamento, quindi alla critica. In più, c'è anche un altro meccanismo, che è quello che, attraverso Google, la priorità alle informazioni non viene più data, non è più data dalla bontà delle informazioni, ma è data dalle visualizzazioni, insomma. quindi, quanto più magari uno dice delle cavolate e attraverso queste cavolate fa ridere altri imbecilli come lui, tanto più quello che dice assume rilievo, viene messo avanti, viene messo tra le cose più viste, più rette, e quindi indirettamente tra quelle che sembrerebbero le cose più importanti, tra quelle cose che chi cerca quella voce vedrà per prima, e quindi sempre più l'imbecille diventerà facilmente visibile, e di questo ne abbiamo degli esempi, insomma, no, vediamo come certi ragazzini abbastanza idioti riescono a ad avere milioni di visualizzazioni, o milioni di scritti addirittura, e sull'idiozia non c'è dubbio, basta guardarli, basta che qualcuno con un minimo di intelligenza li guardi, però questo è il meccanismo, e allora questo è il meccanismo che non ha più riscontro con i precedenti, su queste cose i parametri vecchi di vent'anni non servono più, ecco allora che chi dice che i social sì, sono pieni di imbecilli che parlano, ma anche le strade sono piene di imbecilli che parlano, non si potrebbe criticare gli imbecilli che parlano per strada o criticarli o criticarli perché ci camminano sopra o impedirli di circolarvi sopra, questo ragionamento non tiene più perché il luogo social è un luogo particolare, è un luogo globale, è un luogo dove qualcosa che si dice potenzialmente arriva dappertutto e spesso cresce di importanza non per criteri di selettività legata alla bontà dell'informazione ma per altri criteri sono del tutto diversi dai precedenti e allora dire qualcosa nei social può prescindere dall'assumersene alla responsabilità e quindi dalla competenza i ragionamenti che facevo prima e io credo che il problema di regolamentare l'accesso prima o poi si porrà non è possibile che tutti dicano tutto non sarà più possibile con l'andare del tempo insomma verrà un momento e mi sembra di aver percepito che anche qui sta sta cominciando a sorgere un problema insomma di controllo di controllo dell'accesso in modo tale che che questo strumento con delle implicazioni potenzialmente molto grandi e anche molto utili molto positive venga usato per per fini buoni non come sempre di più succede per fini imbecilli e anche dal punto di vista ludico quando viene usato dal punto di vista ludico insomma sia chiaro che è usato dal punto di vista ludico e non ci siano fraintendimenti il terzo punto il punto non è la diffusione di cretinate o balle ma di avere individui che hanno gli strumenti per spingerli strumenti che si chiamano istruzione senso critico cultura strumenti che si diffondono in quantità mai così estesa come oggi proprio grazie al web e ai social secondo me è un po' difficile pensare che strumenti che si chiamano istruzione senso critico e cultura passino attualmente a prescindere dai social dalla rete dal web secondo me il web ha assunto un ruolo molto importante nel determinare il grado di istruzione o di analfabetismo oppure nell'indirizzare l'istruzione verso determinato tipo di contenuti piuttosto che altri insomma e a volte anche proprio nel come dire nel mettere a dura prova il senso critico e la cultura degli individui cultura intesa come capacità di approfondire non come capacità di saltare da un posto all'altro in maniera immediata o di fare dieci cose contemporaneamente la rete fa cultura e quindi pensare che altra cultura permetta di far sì che ci siano gli strumenti per spingere le balle le cretinate che vengono proposte dal web questa secondo me è abbastanza una illusione insomma il bilanciamento di queste cose è molto è molto critico insomma stiamo sempre di più di fronte a una situazione in cui la cultura viene fatta dalla televisione viene fatta dai media viene fatta dal web che diventa sempre più un qualcosa che si avvicina poi anche alla televisione insomma questi mezzi che un po' alla volta sempre più si fondono diventano un unico strumento lo vediamo già nel cellulare dove c'è già tutto la radio la possibilità di guardare la televisione streaming i social e così via quindi la capacità di comunicare a 360 gradi e poi con una capacità anche nel cellulare diciamo assolutamente capillare che riguarda che riesce a penetrare in tutti i luoghi del mondo e nello stesso tempo di avere un unico strumento per tantissimi canali di informazione per quasi tutti i canali di informazione e poi uno strumento che ha anche un'altra caratteristica che è la caratteristica di poter essere a disposizione di essere appreso l'uso di questo strumento è appreso dai bambini più piccoli e arriva anche alle fete più anziane ormai della della società quindi sono un strumento che comincia ad essere assolutamente centrale perché se l'abbiamo dietro dappertutto in ogni luogo lo comprano tutti lo usano tutti imparano ad usarlo non solo gli adulti ma i bambini molto piccoli e poi anche gli anziani quindi come dire questo strumento il cellulare secondo me potrebbe essere la chiave critica anche di un cambiamento della della società ma della società globale in che senso che è il luogo dove può arrivare una buona informazione insomma allora il problema quale dovrebbe essere ragionando in termini utopici ovviamente mi rendo conto che la cosa è così è di cercare di di avere un controllo su questo mezzo di informazione trovare la via per avere un controllo ma quale può essere il controllo soltanto un controllo che possa essere come dire la voce dell'umanità cioè che possa mandare che possa diffondere quella quel messaggio di umanesimo che permette di trovare le costanti di individuare quella quelle necessità che che facciano dell'uomo un uomo che permettono una sopravvivenza del maggior numero di persone possibile una via per ridurre il più possibile le disuguaglianze sociali una via per comunicare attraverso tutte le culture una via per per regolare e quindi per far diventare ottimale il proprio rapporto con l'ambiente quindi per opporsi al consumismo quindi per cercare di utilizzare al meglio le risorse della terra ecco allora ci vorrebbe secondo me ma capisco che è una cosa molto utopica ci vorrebbe qui sì una struttura mondiale che faccia proprio attraverso un controllo che raccolga le istanze dell'umanità che sono quelle ripeto di poter garantirsi la sopravvivenza e per garantirsi la sopravvivenza non si può prescindere da ridurre le differenze dal combattere la fame dal migliorare l'uso delle risorse quindi dal valorizzare l'umanità rispetto all'economia insomma bisognerebbe mettersi d'accordo su quali sono le prospettive a cui stiamo andando incontro dovremmo trovare una via che ci permette di sopravvivere a un mondo che stiamo distruggendo non abbiamo molta scelta questa via ha una unica possibile direzione che è quella di ridurre le disuguaglianze di combattere la fame di preservare le risorse di arrivare a dar da mangiare a una popolazione mondiale rispettando la capacità del pianeta a ridurre l'inquinamento una via per cui l'umanità possa preservarsi possa continuare a stare in equilibrio con le risorse del pianeta e possa preservare non soltanto se stessa ma anche gli altri esseri che popolano la terra l'ambiente allora questa via le cose fondamentali ce le diciamo tutti soltanto che poi non siamo capaci di imporle non siamo capaci di rendere un pensiero comune non siamo capaci di farle entrare nella prassi quotidiana di tutti i giorni lo strumento in questo momento è la rete è chiaro che qualcuno deve trovare il modo di mandare questo messaggio nello stesso modo come come il capitale manda i suoi messaggi consumistici l'idea è quella di opporre a quel tipo di informazione un'altra informazione che renda possibile all'umanità di sopravvivere alla autodistruzione che sta lentamente provocando secondo me uno strumento per fare questo è la rete e più in particolare ancora il cellulare che ormai è uno strumento alla portata di tutte le tasche che arriva dappertutto e con una facilità anche d'uso insomma quindi è lo strumento più più capillare più divulgativo ma il problema è che attraverso questo strumento devono passare dei contenuti dei messaggi e questi strumenti deve darli qualcuno questi questi strumenti devono essere gestiti da qualcuno e questo qualcuno deve essere un potere mondiale rivolto al bene non più rivolto allo sfruttamento e in qualche modo organizzato gestito insomma per cui l'informazione diventa in questo caso sì uno uno strumento essenziale di sopravvivenza fondamentale insomma l'unica cosa capace di dare come dire un'unica voce a tutto il pianeta almeno nei principi fondamentali che sono quelli dell'umanesimo laico secondo me insomma quei principi che che salvino l'equilibrio tra l'uomo le specie la natura l'ambiente e che permettano la sopravvivenza il maggior numero di esseri possibili insomma che eviti l'autodistruzione questo in una dimensione utopica poi ma tutto questo non può prescindere da un controllo insomma strumenti importanti strumenti potenzialmente molto efficaci non si può lasciarle in mano all'imbecillità dilagante sono strumenti che vanno gestiti e vanno gestiti per un uso tra virgolette buono bontà vuol dire salvezza in qualche modo c'è chi pensa a una possibile catastrofe vicina insomma qualcosa che bisogna cercare di evitare insomma e allora il contenuto il messaggio che passa deve essere un messaggio che raccoglie la somma delle istanze di quello che c'è al mondo di studi di cose insomma e che però crea una mentalità rivolta a questo insomma che è l'unica capace che potrebbe essere capace di permetterci di lavorare insieme per un cambiamento in questo senso cambiamento che vuol dire anche rinunciare a tanti aspetti del consumismo insomma no consumare lo stretto necessario quello che quello che le risorse ambientali ci possono permettere nel rispetto anche degli animali nel rispetto delle piante nel rispetto dell'ambiente insomma quella che una cultura di sinistra non è più in grado di di farci sognare di farci idealizzare come come progetto percorribile la strada dell'informazione di un'informazione gestita e di un'informazione in questo senso che che abbia ben precisi determinati ideali potrebbe essere rispetto sempre in una visione utopica uno strumento e lo strumento tecnico tecnologico in questo momento che io vedo più alla portata per un fine di questo tipo è il cellulare ce l'hanno tutti